E' corto anche questo, mi sembra che l'intensità difensiva di Milano sia notevole in questo inizio match. Tonut va fino in fondo, appoggia il tabellone. Tonut per Ricci, Ricci prova a minacciare la Giulis che gioca sulla linea frontale della difesa zona di Trento. Adesso vediamo se si schiera una zona sulla canestro subito e la zona uomo che sia, quello che conta è che Stefano Tonut per Milano. Tonut, buono l'impatto del match anche per Stefano Tonut che si sente un fire! Ancora Stefano Tonut! Non bilanciato di Milano, un tiro sulla sirena dal centro che chiaramente la difesa di Trento legge bene perché in quel caso il Cavarone non può che tirare, la difesa può contestare il tiro saltando. Perché manca un minuto alla fine del match, consegnato per Forrai, Tonut recupera il pallone, va ad appoggiare in sottomano, quello che forse probabilmente... ... ... ... ...